Tre ore di conferenza stampa a tutto campo, dai temi di politica interna a quelli internazionali, rinviata per due volte causa problemi fisici. La Premier Meloni risponde a 43 domande dei giornalisti, anche se tarda ad arrivare quella più attesa alla vigilia, ossia quella sul caso Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, protagonista dello sparo di San Silvestro. Io ho chiesto che venga deferito in Commissione Garanzia e Pro Biviri e che nell'emore del giudizio la Garanzia e Pro Biviri venga sospeso da Fratelli d'Italia. Ma nello stesso tempo lancia un avvertimento ai suoi, spesso protagonisti di gaff e cadute di stile. E che non c'è uno che si assume tutta la responsabilità e gli altri è qualcun altro che invece pensa di non doverlo fare. Sui temi di politica estera ribadito, il sostegno a Kiev e ad Israele, ma con l'appello all'incolumità dei civili di Gaza. Sulle scelte europee dal MES al patto di stabilità per Meloni l'Italia non è isolata. È sempre accaduto e accadrà sempre, ma per nessun altro si dice la pagherai. E guardi, nessuno lo dice in Europa, francamente. Ribadita la linea del governo anche sull'immigrazione, sebbene i risultati siano inferiori all'attese. E su nostra domanda, la Premier torna sulla questione delle periferie urbane, luogo di disagio, ma che potrebbe essere anche luogo di rinascita. La promessa facile che ho fatto. La promessa che ho fatto, che non è facile, è dimostrare che si può invertire la rotta.